Una grande platea euforica, un lungo applauso, aggrigento, accolto e entusiasta il suo Daniele Magro, concorrente di X-Facto, che è ritornato in città esibendosi sul palco del Teatro Pirandello. La lunga attesa non ha scoraggiato i numerosi giovani e anche adulti che hanno accompagnato l'esibizione di Daniele con grida, applausi e di molti indossando anche la maglietta con disegnati particolari occhiali di Daniele. Circa dieci brani scaletta cantati dal giovane Daniele insieme alla band Era Ora, con cui ha iniziato a cantare ad aggrigento. La lunga attesa non ha scoraggiato i numerosi giovani e anche i numerosi giovani e anche i numerosi giovani e anche i numerosi giovani. La lunga attesa non ha scoraggiato i numerosi giovani e anche i numerosi giovani. La lunga attesa non ha scoraggiato i numerosi giovani e anche 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 i numerosi giovani. è stata organizzata dalla produzione milanese articolandosi nell'arco della giornata con passeggiate all'aperto assieme agli amici più cari. Il cantante agrigentino ha voluto ringraziare Agrigento per il sostegno e il concerto di Yeiser è stato anche un pretesto per omaggiare la città che porta dentro il cuore. Non è una cosa che parte da X Factor, questo è stato un pretesto per dimostrare l'affetto della mia città, che devo essere onesto, c'è sempre stato. Questo è veramente, ripeto, è costituito una cosa, come dire, è stato un evento, logicamente, perché è una cosa molto grande e molto bella, però devo essere sincero non ho mai dubitato del supporto. Il mio sogno vorrei in qualche modo estenderlo anche alla mia città, perché secondo me è una cosa che in qualche modo, queste sono delle telecamere, sicuramente aiuterà anche la città, in piccolo ovviamente, in due miei piccoli ho contributo. Al concerto hanno partecipato centinaia di fan e familiari dell'artista ed alcune autorità, tra cui il sindaco Marco Zamulto. Qualche perplessità per quanto concerne la scelta del Teatro Pirandello, considerato che la sua capienza è ristretta, ha lasciato fuori molte persone che avrebbero voluto partecipare. Telepace TR98, che dall'inizio dell'avventura sostiene Daniele IDX Factor, anche con uno spot televisivo, con il coinvolgimento di Sasa Salvaggio, continuerà a sostenerlo, così come tutti gli egrigentini. Ciao! No, no, no. I just can't stop, stop, stop. And I just can't break myself away. I don't want to, is there. I just can't stop. I just can't stop. I just can't stop. Grazie a tutti.